Musica dei motori, preziosità dei dettagli, guidare un'auto con tanta storia rappresenta un insieme di gesti che coinvolge il nostro pensiero, i nostri sensi, le nostre emozioni e soprattutto l'idea di un vero e proprio oggetto d'arte che racconta un pezzo di storia. Amici e amici di Scimotori, per questa puntata di Scimotors salgo a bordo della mini del quarantesimo, prodotta in edizione limitata nel 1999, con motore benzina 1.363 CV, un cambio manuale ovviamente, con quattro marce. Nella versione che stiamo provando il volante non è quello originale, ma è un Nardi. Andiamo a vedere un attimino come va su strada e poi sorpresa, sorpresa, perché corre l'anno 2019, per cui facendo un po' di calcoli era il 1.950 euro. Ve lo svelo dopo. Il profumo di queste vetturette è sempre veramente molto buono. Andiamo a guidare la mini del quarantesimo. E tra l'allà, al volante della mini del quarantesimo, i sedili in pelle con il caldo non sono veramente il massimo, come numerosi dossi giganti. Manovella per i finestrini, insomma, se stiamo a guardare un po' tutto, ma chi ce l'ho fatto a fare? Eppure emozioni e piaci, ci si immerge in un altro mondo senza nessuna connettività. Oh che bello, il telefono messo a riposo per un po'. Ed eccoci, abbiamo parcheggiato, siamo arrivati a destinazione. Guardate un po'. Cari amici e amici di Scimotori, oggi ho un appuntamento molto speciale con una mia carissima amica. E adesso entriamo a bordo di una vetturetta che quest'anno compie 60 anni e di strada ne ha fatta tanta. Ne ha fatta talmente così tanta che ne hanno fatto anche un'edizione speciale in questo bellissimo colore verde. Ma vediamo un po' chi ci attende a bordo, questa volta del nostro salottino She Talks. Ed eccoci qua con Cristiana Latvera, responsabile ufficio stampa Mini Italia. Insomma, Cristiana, tu sicuramente non hai visto la prima Mini, perché stiamo parlando di quel bel lontano 26 agosto 1959, 60 anni fa. Però conosci molto bene la Mini sulla quale siamo sedute noi ora, perché la Mini è creata appositamente per il 60esimo. Quest'anno Mini, esattamente il 26 agosto, celebra 60 anni di storia, un appuntamento veramente importante perché questi 60 anni hanno decretato una serie di successi. Infatti la storia di Mini è una storia fatta da numerosi successi che si possono racchiudere in design iconico che è rimasto invariato nel tempo, nonostante l'aggiornamento del prodotto. E in una serie di contenuti che vanno dal go-car feeling, quindi dal piacere di guida, a una serie di innovazioni tecnologiche che comunque fanno di Mini la stessa di 60 anni fa, ma allo stesso tempo una vettura sempre nuova. Infatti, se pensiamo, siamo nati con una vettura tre porte, piccola, per rispondere alle esigenze di 60 anni fa ed oggi abbiamo una gamma intera, quindi che va dalla Mini tre porte, questa che abbiamo oggi qui in prova, fino alla Mini Countryman, quindi un'evoluzione, diciamo. Ma sempre un po' indietro nel passato, che poi tanto passato non è, perché la Mini è sempre, sempre, sempre attuale, di moda e a noi donne piace tantissimo. A me viene sempre in mente la Mini Cooper, proprio per il suo DNA sportivo, l'agilità, insomma, ne ha fatta veramente di strada. Infatti, non è il modello della gamma, comunque la Mini Cooper c'è. È certo, Cooper è ormai sinonimo di Mini, ma è un modello, nel senso come una motorizzazione, è anche un modello inteso come Mini Cooper Works, quindi la gamma sportiva, proprio quella super sportiva che ricorda il motorsport degli anni 60, con le vittorie a rally di Monte Carlo. Ah, scusa Cristiana, se ti interrompo un attimo, seguite i Mini Challenge, ovviamente. Esatto, era quello che stavo appunto per raccontare. E ti fate la quota rosa Silvia Simoni. Silvia Simoni, esatto. Che ancora oggi, l'espressione di Mini, appunto, nel motorsport, avviene attraverso il campionato monomarca Mini Challenge. Ma passiamo un pochino, andiamo un po' avanti nel tempo, alla Clubman, alla Countryman. La Countryman è ancora la regina delle vendite nella nostra gamma, perché più o meno il 50% delle vendite è fatta appunto da Mini Countryman, che è una vettura versatile, spaziosa, adatta a ogni tipo di utilizzo, nell'uso quotidiano, cittadino e urbano, ma anche nei viaggi. Quindi è l'ideale compagna di viaggio. E non dimentichiamo anche Mini Clubman, che comunque è una vettura versatile, con 5 posti, 6 porte, perché ha le due porte dietro e che proprio a fine di quest'anno vedrà l'uscita del nuovo pacelift. Ah, e siamo qua vicine a tutti l'anno, eh? Eh sì, e se parliamo di fine anno, in realtà presenteremo la prima Mini elettrica, perché è vero 60 anni di storia, ma è vero che guardiamo anche il futuro. Quindi dal Creative Uso Space della prima Mini minor, piccola piccola, arriviamo a una Mini tre porte, ma adesso con motorizzazione elettrica e quindi completamente sostenibile, per una mobilità urbana sostenibile. Passato, presente e futuro. E noi adesso siamo ancora a bordo del presente, Six Tears, l'ultima novità di Casa Mini. Ma insomma, Cristiana, vuoi dirci qualcosa riguardo a questo bellissimo modello, in questo colore verde? Il colore è verde base o si possono avere anche delle altre scelte di colori? Allora, è stata scelta la colorazione verde British Racing Green perché in realtà rispecchia il colore tipico delle vetture British sportive. Quindi torniamo un po' al discorso del motorsport e del nostro heritage. Appunto, come raccontavo, è una personalizzazione, un'edizione speciale che è stata realizzata in occasione dei 60 anni di Mini e che si spera che farà la storia e resterà come una delle edizioni speciali che hanno reso famose questi 60 anni. Partito dalla colorazione British Racing Green, poi abbiamo delle personalizzazioni estetiche sulle bonnet stripes, sui sud scattol, sui battitacco, che richiamano appunto l'edition Six Tears e poi negli interni abbiamo il volante e la colorazione dei sedili che è questo marrone con le impunture e le bordature verdi. Mi raccomando, voi appassionate di Mini e non potete non averla nel vostro garage e non solo quello di insomma. Che bella questa chiacchierata Mini insieme Cristiana, ma è ora di tornare a casa e prepararsi per un nuovo She Talks. Vi aspetto, alla prossima!